Diceva giustamente Don Andrea Gallo, cerchiamo di essere tutti trafficanti di sogni. Io, ragazzi miei, sono da sempre un trafficante di sogni, ho dei sogni da realizzare e spero che li abbiate anche voi che vedete questi miei video e innanzitutto il mio primo sogno, poi nei prossimi video ve le racconterò altri, il mio primo sogno è che tutti smettiamo di piangerci addosso e cominciamo a guardare avanti, ma a guardare oltre, a guardare in prospettiva, non a pensare all'oggi, ma cercare di immaginare da quello che è l'oggi, quello che potrebbe essere il futuro, soltanto che uscissimo dall'esasperato individualismo che è la malattia, il cancro che avvelena l'Italia da sempre e cercassimo di costruire veramente qualcosa insieme con una reale visione di futuro. Ci state?